Allora, babbo e tì, poi caffè e poi cì, e poi scegliamo... No, prima caffè e tì. Sì, babbo e tì, e poi andiamo a vedere sotto a GameStop un paio di cose. Come vuoi? A posto. Iniziamo! andiamo a far merenda dai tanto è inutile che guardo perché tanto prenderò sempre lo stesso ho dimenticato di prendere la salsa curry e quindi appena apri i grevi ce l'appliccio dentro mi dispiace perché i panini del kfc sono buoni e non sono male però sono brutti e sono tristi e sono così allora bisogna fiorare così eh? è un casino non so anti-orario eh perché se vuoi fare orario cosa succede? eh viene male va bene io però credevo di avere ancora spazio nello stomaco non ce l'hai te comunque si aspetta solo una due tre quattro cinque su su sette quindi dai c'ho più possibilità di trovare un personaggio di kingdom hearts e non della disney prego apri tu che tengo il telefono no ok mi pare un personaggio normale ma non sono sicuro spero che ti piaccia mince meno male daccia access daccia access scadola la tieni? sì perché? Ora, visto che sono a casa, non ho arrivato, mi ha messo con le altre figure, e i babble li ho messo subito in frigo.